Potrebbe slittare di dieci giorni l'autopsia sui corpi dei due fratelli belgi trovati morti nella loro stanza nell'hotel Minerva, nella centralissima piazza Santa Maria Novella a Firenze, domenica scorsa. L'avvocato Dimitri Caciolli, difensore del farmacista 27enne indagato a Firenze per omicidio colposo riguardo alla morte dei due fratelli, ha detto che il suo assistito è molto provato. Si tratta di una persona mite che sta provando un grande dispiacere per quello che è successo. Il farmacista è colui che ha venduto senza ricetta due scatole di un potente analgesico a base di oppioidi, l'oxicodone cloridato, ingerito in 42 pasticche insieme a birra e altri alcolici. Un mix che avrebbe causato i due decessi, circostanza da stabilire con l'autopsia. Tuttavia la stessa autopsia prevista dal PM Giacomo Pestelli domani potrebbe slittare perché lo stesso avvocato Caciolli ha presentato al GIP una riserva di incidente probatorio a cui eventualmente farà seguito la vera e propria richiesta. Secondo quanto spiegato, se effettuata in incidente probatorio l'autopsia potrebbe slittare di circa 10 giorni. In questo caso infatti a eseguirla sarebbe un medico legale incaricato dal giudice e non dal PM Pestelli. Intanto, secondo quanto si apprende, al farmacista è stato notificato il provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro da parte della proprietà della farmacia dove il 27enne è dipendente.